Arrestati due spacciatori che avevano due chili di hashish nascosti nell'auto. Sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Arezzo della sottosezione di Battifolle a eseguire l'operazione. L'episodio risale a sabato scorso. I poliziotti hanno sottoposto a controllo un Audi che stava viaggiando lungo la corsia a nord della 1 a bordo della vettura due trentenni originari dell'Albania ma residenti da tempo a Savona. I due, così come reso noto dalla questura retina, non avrebbero saputo fornire spiegazioni convincenti sulle ragioni del loro viaggio nella nostra provincia. Per questa ragione i poliziotti hanno deciso di perquisire il veicolo sotto al tappetino del sedile passeggero anteriore. Sono stati trovati due chili di hashish sistemati in un vallo ricavato sotto la mochette dell'auto. La droga, suddivisa in due panetti, una volta immessa nel mercato dello spaccio avrebbe fruttato circa 50.000 euro. Per i due è scattato il fermo ed entrambi sono stati trasferiti all'interno del carcere retino di San Benedetto.